e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono chiara bea 200 e oggi siamo qui sopra mia scrivania lo so che mi vedete dal video e poi tengo anche la sedia solo che tengo la linea stava cadendo la luce veramente la linea vabbè eccomi qui le carte perché i miei miei hanno comprato i palloncini e adesso andiamo a compiare il palloncino più grande del mondo lo so che non me ne uscirò con un polvone ma vabbè questi qua non sono quei cosi che tipo giganti che non si rilevano più che sono intrastibili ma sono palloncini normali ah un palloncino tagliato perché avevo fatto l'esperimento ma questi qua sono dei dettagli mamma il palloncino mamma il palloncino mamma il palloncino E' il palloncino! E' un paura raga! No raga mi sono messa una paura! Ma una paura delle paure! Raga come vedete sto piangendo perchè mi è andata a finire fuori! Che paura! No raga mi sono presa! Raga veramente mi sono presa davvero un impatto! Non potete capire! Spero che voi da casa non siete morti! Speriamo! No! Tra l'altro! Ho anche il palloncino d'acqua! No raga che paura! Mia mamma si è davvero messa! Allora! Guarda che paura! Se vedete che è freddo perchè non riesco a messa! Vabbè! Se lo so raga se lo faccio non mi lo so! No! I denti! Con un caldo di questi palloncini che sono tutto il suo! Raga! Come avevo detto che sono palloncini! Perchè il colgo non fa rumore! Vabbè! Adesso andiamo a fare qualche altra cosa! Con questo palloncino qua! Non riesco! Non riesco! Ah guarda davvero non riuscivo! No! Non vabbè! Non vabbè! chiuso. Il problema è questo teatro nei commenti se voi sapete compiare il palloncino e lo sapete anche chiudere perché se lo sapete anche chiudere fatevi un tutorial. Fatemi un catch di tutorial. Anche non riesco, ma perché? Non sto parlando da tipo 4 minuti e 44 quindi praticamente non parlo da 4 minuti e 44 quindi da quando iniziamo il video non sto parlando. Ciao ragazzi, oddio. E' il mio tablet che mi dà le notifiche check. Il mio iClan mi dà le notifiche check. Che sto provando il tuo tipo di balloncino. Ah! E allora lo so che abbiamo una faccia inquietante ma va bene. Campane, grazie campane. No. C'erano l'uscita! 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 C'erano l'uscita!